Le fiamme gialle del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, hanno individuato due container provenienti dalla Cina contenenti giocattoli contraffatti delle più note marche. L'operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha consentito, dopo una serie di incroci documentali e successivi meticolosi controlli eseguiti su numerosi container in transito presso il porto di Gioia Tauro, l'individuazione di due carichi illeciti imbarcati nel porto cinese destinati, secondo la documentazione doganale, esibite nel Montenegro e in Croazia. Pertanto si è proceduto ad accertamenti per i tali da parte dei tecnici delle società titolari dei marchi, i quali hanno confermato l'intuizione dei finanzieri e dei funzionari doganali, ossia che i prodotti erano contraffatti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 10.524 giocattoli per un valore di circa 52.000 euro. Si sottolinea, ancora una volta, l'importanza dell'azione svolta dalle Fiamme Gialle e dall'Agenzia delle Dogane a contrasto del fenomeno dell'illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e contro la sleale concorrenza a tutto danno delle imprese corrette. Detti prodotti, peraltro destinate a minori, in assenza delle condizioni di genuinità previste dalla vigente normativa, sono potenzialmente dannosi per la salute delle persone.